Ehi a tutti ragazzi sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z come attivazione global Perché ragazzi quest'oggi andiamo a fare un mega pool di ben 1050 Dragon Stone Su una leggenda di summon di Cell Perfect LR ragazzi Quindi mi raccomando se questo video e ovviamente anche il video che uscirà domani Sempre riguardante un pool di altre 1050 Stone su quelle stesse patch Se questi due video arriveranno a 150 like Ragazzi farò il giveaway di questo account in live Mi raccomando Vi volevo ricordare tra l'altro che qua sopra nelle schede trovate tutti i video passati che magari possono piacervi E ovviamente qua in descrizione trovate anche tutti i vari link che magari possono essere utili Tra l'altro seguitemi su Facebook, su Instagram e ovviamente entrate anche nel mio gruppo Telegram Detto questo vi ricordo che domenica alle 12 in punto uscirà sul canale il video dove mostro tutto il mio box global del mio main account Quindi mi raccomando non perdetevelo Detto questo bando alle sciacce E andiamo boys Andiamo a pullare le 1050 Dragon Stone nella speranza di trovare tantissime LR Eccola qua Prima multi boys Andiamo subitissimo Vi dico subito che c'è già frico e leri in quest'account Quindi tantissima roba Partiamo subito con Goten, Gohan, Majin Buu e Chozu, Relisi, Yellow, Super Saiyan Cerchiamo anche un po' di skippare ogni tanto perché comunque le stone sono veramente tante E diciamo che è un po' complicato poi fare un video con le tempistiche giuste con così tante stone Assolutamente UB Tech Il nostro carissimo Cell Un altro Cell Mi servirebbe Cell sì ma non quello lì Un altro Cell decisamente Dai Tamburello Ok E vabbè Subito prima multi Shaftatissima aggiungerei Prossima dai boys Se ce la possiamo fare Vabbè non mi interessa Close assolutamente Allora Vi ricordo tra l'altro che questo video non so quando uscirà Però ci sta comunque che esca Di pomeriggio ma anche di mattina Diciamo di Alle 12 in punto come sempre Quindi Comunque si è recuperato il video precedente a questo Assolutamente Lo trovate sempre qua nelle schede Intanto Super Saiyan 2 Andiamo dai Almeno qualche LR raga 2100 stone in totale Nei due pool Voglio almeno un po' di LR Non ne chiedo tante Intanto usiamo a su int Molto buono Però Sappiate che questo è un account Dove voglio trovare Veramente tante tante belle LR Ho visto sculare In tanti screen Vabbè Dispo Ma come dispo in questa batch Ma cosa E vi ripeto Ho visto sculare tantissime LR in singola Oppure nella prima multi Che veniva fatta Quindi sono molto Fiducioso Però sapete Che comunque Non funziona sempre così Intanto Tien e Chouzu Che sappiamo che per me Sono veramente Tanta roba Mi hanno sempre portato Nel bene o nel male Sempre fortuna Quindi intanto Super Saiyan 3 Dammi il god Niente god Speriamo che sia un LR Raga Ne dubito Ma speriamo A questo punto Ci spero sempre Ok Giz Bido Me ne confondo sempre con Gokua Non so perché Intanto C16 Dai Gothen Dai Ce la possiamo fare Raga L'obiettivo ovviamente Sono le LR Più forti del gioco Quanto capite Si può trovare anche Il primo LR In questa batch Ed ecco il primo LR Raga E il primo LR Trunks LR Ragazzi Portato a casa Primo LR Di giornata Trunks LR Dai ragazzi Stiamo andando Benissimo Davvero benissimo Primo LR Ve l'ho detto Che TNC Mi portavano fortuna E così è stato Vi ricordo ragazzi 150 like Minimo Se volete Questo accounting Givetano Abbiamo Vegeta Release Yellow Super Saiyan Niente Niente god Niente Niente Vegeta Animation Scusate Super Saiyan 2 Dammi il 3 Niente Super Saiyan 3 Vabbò Guardiamo un po' Raga Allora Va bene Cell Non è il cell Che volevamo Ma comunque Va benissimo Anche lui Dai Comunque è sempre Un error account E siamo già a quota Due LR Goku e Freezer LR E ovviamente Trunks Per adesso Abbiamo ancora ragazzi Tantissime Centinaia di Tramostone Da spendere In questa batch Sarebbe figo Tipo portare a casa Un account Con quasi tutte Le LR Pullabili Sarebbe fantastico Ovviamente Tranne quelle Del terzo anniversario Prossima Molti ragazzi Dai Speriamo che Non sia stata Una fortuna Casuale Trovare quelle LR Speriamo di trovarne altre Ancora Tiener Chaozu E Yamcha Release Yellow Super Saiyan Speriamo In un'altra LR Prima ci ha portato Fortuna Tiener Chaozu Guardiamo se Anch'io La sera così Super Saiyan 3 Niente Super Saiyan God Va benissimo Nel caso Va benissimo Ok Trunks Kid Super Saiyan Recom Dai Vogliamo una fortuna Assoluta Gohan Super Saiyan 2 AGL Gohan Va bene Goku Ho fatto un piccolo skip Un altro Perfect Cell Quello fake Va bene Master Roshi Vegeta Dammi qualche altro LR Non Tora Non Tora Giore in tape Multi shaftatissima Due SSR Che non utilizzeremo Quasi mai Forse Goku E Gohan AGL Ma non credo Manco lui Prossima Multi Boys Dai Io vi ricordo Ancora una volta Di condividere il video Di iscrivervi al canale Intanto Ovviamente Krilin Gohan E Majin Buu Io ragazzi In base ai like Che lascerete in questo video Se superiamo 150 like Alla grande Intanto Super Saiyan 1 Fantastico Qui E in base A quanti like Lasciate Io Vedrò insomma Se fare il giveaway Perché se superiamo Addirittura 200 like Ragazzi Il giveaway Il 200 like In entrambi i video Intanto Ultimate Gohan Il giveaway Verrà fatto Se no Non verrà fatto Tranquillamente Ok 18 E ovviamente Considererò anche Il fatto di portare Altri video del genere Tranquillamente Tranquillamente Borgos Un'altra multi shaftata Praticamente uguale A quella precedente Ok Stiamo avendo un po' di sfiga Ma dopo un LR Ci sta ragazzi Assolutamente Abbiamo ancora Più di 1800 stun Da buttare Quindi da buttare Da pullare Scusate Prossima multi Release Rainbow Super Saiyan Nell'animazione C'era soltanto Chaozu E Goten Dai Super Saiyan 2 Dammi il 3 Perfetto Dammi il God Niente God Peccatissimo Aggiungerei Però comunque Ci può stare Nel caso Cell Vegeta Stiamo un po' Schippando Ma comunque Vediamo un po' Dall'ombra Quale PG Potrebbe essere C19 C17 Dammi C18 Siamo pari Perfetto Cell Prima forma Freezer Ma in manco Majin Bu E' proprio a posto Va bene Schiaffettatissima Gohan Super Saiyan 2 Che non è male Per questo Gohan Però non è quello Che stiamo cercando Assolutamente Non è quello Questo deve essere Un account Con un botto D'LR Ne abbiamo già portato A casa 2 Tra cui La più forte del gioco Già nostra TN Chozo Ancora una volta LR Incoming Lo scopriremo Subitissimo Boys Super Saiyan 1 Niente Super Saiyan 2 Forza O'Long Guardiamo By Guys Forse no Niente Zero Bellissimo Zamasu Frost Stavo per dire Cooler Non so perché Barter Ma benissimo Tagoma Cell Dai Gioco Ranto Cell Ai 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 Bob Beerus Sì Tava di Bobby Perché Bobby Uh Potrebbe essere Un cambio D'animazione Vegeta Questo Vegeta Raga Il primo Vegeta Del gioco Bruttissimo Mamma mia Schiaffettatissima Cioè TN Chozo Zero BG buono Zero Vabbè Sto cominciando a credere Che la fortuna Se ne sia andata Anche se c'è stata Veramente per poco Intanto Prossima Multisummon Good Trunks Gohan E Il nostro carissimo Majin Buffett Oppure Good Come potete chiamarlo Super Saiyan 1 Niente Super Saiyan 2 Cioè ragazzi Che schifo Ok Kibitokai Nail Tagoma Vegeta Super Trunks Non questi Non questi SSR Scabrosi No Wiss Dai Dammi un'altra LR Voglio un'altra LR Gohan Ancora Gohan Me lo sento Ragazzi Tutte queste stone Porteremo questo Gohan a full ability Me lo sento Come qui Super Trunks Lo porteremo a full ability Me lo sento Ricordatevi queste parole Prossima multi Soltanto piccolo Non so se significa qualcosa Lo vedremo Super Saiyan 1 Release Yellow Super Saiyan 1 Soltante Super Saiyan 1 Ragazzi Che schifo 3 multi di fila Così Wow Vabbè Vabbè Lasciamo perdere C18 Vabbè Sinceron Dai Un'altra LR Un'altra LR Perfect Cell No Voglio Perfect Cell Sì ma quello giusto Non questo Videl No Ti prego Dokkan Ti prego In 500 stone Ci hai fatto uscire Un'LR Una 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 Che comunque è sculata Però Dai Puoi ancora fare di meglio Ciao Zogotene E piccolo Release Yellow Super Saiyan 1 2 Oh è tornato il 2 23 3 Ah il 3 ancora è in ferie Deve 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 Tornare Dalle vacanze Sinceron Radish Natural Seron Barter Che schifo Raga Shugesh Può portare fortuna Questo Shugesh Kiki Ok Cell Goten Dai Dammi un'altra LR Videl Niente Ragazzi Stiamo sfigando Qui in una maniera Allucinante Dai Ultime 400 No Ultime 400 stone No Ultime 500 stone Dai Ultime 10 multi Boys Ultime 10 multi Trunks Majinbo è piccolo PG che non c'entrano niente Primo by guys di giornata Raga Primo by guys di giornata Dai speriamo bene Un LR portato a casa Bye guys Bye guys Speriamo bene Sicuramente sarà solo il GSSR Invece no C'è anche il Dispo nel mezzo Gohan Perfect Cell Quello sbagliato Un altro SR di Cell C16 Ok Amond Un altro Cell inutile Un altro Naill inutile Tutti i PG inutili Vegetarage L'unico PG forse Forte A parte LR di Trunks L'unico forse Prossima boys Dai Vi ricordi 150 like Per questo video Veramente epico Nemmeno un Vegeto animation Nemmeno uno Intanto 200 PG Che praticamente Ci dicono Che non uscirà niente In questa multi Un altro Crack the screen Guardiamo un po' Chi sarà Dai Ok Thank you Dragon Balls Guardate un po' Se dovremmo ringraziare Dragon Balls Dai Guardiamo Dai Cura Va benissimo Non va benissimo Voglio un LR Voglio un LR Votamo Prossima Adesso esce un LR No Guldo Guldo Vabbè Ub Ma Jube No 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 Non ci voglio credere Non ci voglio credere Stiamo sfigando In una maniera allucinante Era iniziata bene Con Trunks LR Ma poi è andata Giù Giù Veramente giù Di tanto Vegeta 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 Animation Niente Vegeta Animation Cioè ragazzi Dopo 600 stone Che appare Vegeta Non è neanche Vegeta Animation Che schifo Super Saiyan 3 Nemmeno il God Wow Nemmeno il God Bellissimo Dodoria Zarbon Giustamente Dopo Dodoria Goku Mr. Satan Trunks C19 Krilin Videl Dai Un'altra Videl Wow Che schifo Di molti Stanno arrivando Veramente Delle molti Penosissime Veramente Penosissime Allora Ragazzi Vi ricordo sempre Che se per ora Stiamo sfigando Abbiamo sempre Il pool Di domani Con altri 1050 Dragonstone Soltanto Biancia E vi ricordo Comunque Che in base A tutte le LR Che troviamo Comunque A prescindere Dalle LR Che abbiamo Trovate E quelle Che troveremo In questo account C'è sempre Free Quelle LR Quindi mi raccomando Allora Ok Zarbon Cell Souser Videl Dai Un'altra LR Un'altra LR Dockham Un'altra LR Per concludere In bellezza il video Anche se ancora Mancano tanti stone Però sarebbe figo Se avranno altre LR No Non è questo Quello del cerchio No Ultime 300 stone Di questo video Raga dai Spaccate assolutamente Il tasto del like Assolutamente Vi ricordo che domenica Mezzogiorno In punto Uscirà il video Dove mostrerò Tutto il mio box Del mio main account Global LysRainbow Super Saiyan Tiene ciò Tutremo bene Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Voglio 3 Niente 3 Vabbè Ormai è diventato Un miso anche il 3 Zarbon Dammi un'altra Benedetta LR Un'altra Benedetta LR Non C18 Non Super Trunks Raga Ma cosa Perfect Cell Perfect Cell Raga non ci sto credendo C16 Bardak Dammi un LR Dammi un LR S1 LR No Vegetta Super Saiyan 3 E si S3 R No Proprio No Basta Ultime 5 multi Speriamo bene ragazzi Tutte le mani al cielo Pregate 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 Abbiamo Krillin E Vegeta Release Di Ello Super Saiyan Niente Vegeta Animation Cioè ragazzi È incredibile È veramente incredibile Super Saiyan 2 Va bene Super Saiyan 2 Dai Allora Perfect Cell Goku Ok C16 C16 Android 17 Nemmeno un cambio Di animazione Nemmeno un Vegeta Animation Un Mister Saiyan 2 Super Majin Buu Nemmeno un Super Saiyan God Ragazzi Cioè niente Veramente niente Majin Buu Good Quello fisico Il meme di Bust Cioè ragazzi Ma cosa stiamo De cosa stiamo parlando Lo schifo Più schifo Dello schifo Veramente Che schifo Cioè Veramente penosa La cosa Ok Un altro Tiene Chozo Con Yamcha Release Yellow Super Saiyan Dammi Super Saiyan 2 Niente Nemmeno un Super Saiyan 3 Dammi un LR Però Voglio un LR Genio Mamma donna Ci avevo sperato Raga Vabbè sto Cell Ci avevo sperato Forse l'LR Perfect Cell Majin Buu Non so manco Quale sia Toppo Mamma mia Che schifo Raga Hercule Cell Mamma Ne avevo un milione Di queste serie SR Ora Andrade 19 Goku God Goku God Raga Goku God Va bene Io tra l'altro Ragazzi Vi ricordo Che Chiunque di voi Voglia pullare Su qualsiasi Baccio E voglia Che Vuole Che gli pulli Io in un video Contattatemi Su Instagram Link in descrizione Dovete avere Minimo 300 stone E io vi pullerò Ragazzi In qualche bacio Ovviamente Che mi direte voi Link in descrizione Se volete Che vi pulli In un video Apposta per voi Thank you Dragon Balls Ok Speriamo bene Borgos Speriamo bene È diventato il nuovo Meme del canale Hercule E Ajirobe Il nostro Dottor Gero Tagoma Bellissimo Trunks Ok Simbal Master Roshi GSSR Sì Il Trunks Forse è uno dei migliori PG trovati finora Insieme a Vegetarage E a Trunks LR stesso Ultime due Multi Raga Ultime due Multi Dai Ce la dobbiamo fare Raga Ce la dobbiamo fare Soltanto TN Ciao Zio è sparito Anche lui è andato In ferie Però Release Rainbow Super Saiyan Dai Se è andata male Ora speriamo Che vada bene Domande Speriamo Cell Tarball Dai Cell un'altra volta Ok C16 Assolutamente Deve andare bene Raga Amond C16 Ancora una volta Vabbè Giniu Non ci sto credendo Un'app Wistech Nemmeno l'int Il tech Raga Ultima Multi Di giornata Speriamo bene Tutti le mani al cielo Preghiamo veramente Che sia qualcosa Di veramente buono Raga Speriamo veramente Speriamo veramente Vegeta Vegeta Potrebbe essere L'unico Vegeta Animation Nella giornata Release Yellow Super Saiyan Niente Vegeta Animation Incredibile Incredibile Millestone Niente Di niente Bellissimo Veramente bellissimo Recom Piccolo Gohan Trunks Cell Bellissime Laga Questi Multi Sono veramente La cosa più bella Del mondo Goku AGL Non malissimo Perfect Cell Fisico Un altro Perfect Cell Fisico E Wistech A meno ora Uscito l'int Invece del Tech Comunque ragazzi Per questo Primo video È tutto Io vi ringrazio Di cuore Ovviamente Per la visione Vi faccio vedere Il bottino Sostanziale Di questa Di questo Pool Assolutamente In quanto L'unico LR Che abbiamo Trovato È lo stesso Trunks LR Con lui Vi saluto Vi ricordo Di recuperare Tutti i video Che trovate Qua sopra Nelle schede Ovviamente Ovviamente Domani Uscirà la seconda Parte Con altre 1050 Tragonstone Sulla leggenda Di Salmon Di Cell Sperando Che ci Vada Molto meglio Io vi ringrazio Ma sempre Vi ricordo Di 150 Like Se volete Questa Accounting Giveaway Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Se ancora Non l'avete Fatto Lasciate Un bel Like Un commentino Ma sotto Condividete Il video Io vi ringrazio Ma sempre E Detto questo Ciao a Tutte Ciao a Ciao a Ciao a